Questo è un video per gli sfiduciati, non ce ne sono molti, o quantomeno non li noto fra quelli che guardano i video, però non si sa mai, quelli che dicono ma non lo so ma perché mi dovrei applicare in queste cose, alla fine il rapporto fra l'uomo e la donna è tutta quanta una magia nell'aria, quando trovi la persona giusta tutto si incastra perfettamente. Ecco, vi vorrei ricordare una cosa, avete presente quando vi siete innamorati di quella persona che non vi pensava minimamente, voi eravate sul letto, che piangevate, perché io lo so che vi è successo, perché ci è successo a tutti quanti, ed eravate disperati, dicevate ma perché, perché non mi ama, perché non mi caga di pezza, io non esisto per questa persona, ma perché? Ed eravate disperati, ve lo ricordate? Certo che ve lo ricordate, io lo so che ve lo ricordate, perché quella cosa ti crea un solco così profondo nel cuore che non puoi dimenticarlo. Bene, sapete di chi era la responsabilità che quella persona non si fosse innamorata di voi? Vostra. Io sono l'amico antipatico che ti dice le cose vere quando hai bisogno di sentirtele dire. Era vostra. È vostra la responsabilità che qualcuno non si innamori di voi, non della sfiga. E allora, ditemi sinceramente, rispondetemi nei commenti, la prossima volta che vi dovesse capitare una persona bella, che vi piace, speciale, che vi fa battere il cuore, quella diversa da tutte quante le altre, metaforicamente vorreste andare in questa battaglia, diciamo così, con una fionda? Con un cazzo di carro armato che distrugge tutto quello che ha davanti? Cioè, ci volete andare sprovveduti, come quella volta che è andata male? O volete sapere veramente come comportarvi, come dare il meglio di voi a quella persona? Perché la cosa incredibile è che noi diamo sempre il meglio di noi con quelli a cui non ce ne frega nulla. Poi arriva la persona giusta e diventiamo degli imbecilli. Ecco perché dobbiamo imparare a comportarci. Si dice che nella vita di una persona ci siano soltanto due grandi occasioni. Allora, la domanda non è se è il caso di diventare bravi a relazionarsi con gli altri. La domanda giusta da farsi è, quella persona che quella volta non siete stati capaci e vi siete lasciati sfuggire, era la vostra prima o seconda occasione?